Fabio Fazio e Luciano Letizetto lasciano la RAI con tantissime polemiche però non capisco perché nessuno si stia preoccupando invece di Roberto Burioni Roberto Burioni è il medico che è sempre ospite fisso da Fazio da tanti anni e che ci ha raccontato la pandemia, sapete tutti com'è andata ecco vorrei sapere che fine farà Roberto Burioni avrà un suo programma, un suo talk show andrà al posto di Giletti alla 7 andrà su Netflix, andrà su YouTube con un canale vorrei sapere dove andrà Roberto Burioni perché è importante saperlo